Esperienza, tecnologia, innovazione e un servizio sempre attento alle esigenze della clientela. E' grazie a queste caratteristiche che dal 1964 Ceramica Sant'Agostino opera con successo nella produzione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti. Con sede a Ferrara, celebre città d'arte, azienda leader del settore, Ceramica Sant'Agostino è oggi una realtà moderna, razionale, all'avanguardia. Nel suo modernissimo stabilimento, su una superficie totale di 420.000 m2, di cui 100.000 m2 coperti, 400 professionisti lavorano per produrre 23.000 m2 di ceramiche al giorno, suddivise tra pavimenti e rivestimenti. Una produzione in costante crescita, a cui corrisponde un continuo miglioramento dei sistemi di servizio e di supporto alla vendita. Per questo Ceramica Sant'Agostino ha realizzato un progetto unico studiato per ottimizzare gli spazi di magazzino, semplificare la gestione delle merci, automatizzare completamente l'evasione degli ordini. In un nuovo complesso industriale di 213.000 m2, interamente dedicato alla gestione integrata dei magazzini, è situato il MAV, il primo magazzino automatico verticale costruito in Italia per il settore ceramico. Avveniristico Tecnologicamente avanzato, lungo 134 metri, alto 25 e largo 25. Tutto l'impianto è guidato e controllato da un complesso sistema di software che gestisce automaticamente sia lo stoccaggio e il ripristino dei prodotti finiti, sia l'elaborazione degli ordini di materiale spalletizzato, ossia quegli ordini composti da piccole quantità per diversi articoli. Le aree principali del MAV sono tre. La scaffalatura di stoccaggio, questa struttura è in grado di contenere un volume di prodotto equivalente a 480 tir. Il sistema meccanico per la movimentazione dei pallet in entrata e in uscita. Le baglie di preparazione dei pallet ordini. Una struttura estremamente razionale, progettata per ridurre e ottimizzare al massimo i tempi di accettazione, di stoccaggio e di prelievo dei materiali. Come funziona il MAV I pallet provenienti dalle linee di produzione, grazie al sistema meccanico di movimentazione preciso e veloce, vengono stoccati all'interno delle scaffalature. Il MAV è in grado di contenere e gestire fino a 25.000 pallet. A questo punto vediamo come si sviluppa la preparazione di un ordine. Gli ordini pervenuti agli uffici commerciali vengono inseriti nel sistema informatico dell'azienda. Il software di gestione trasmette dati e comandi al magazzino automatico, che immediatamente estrae i pallet madre dalla scaffalatura e li trasporta, secondo una precisa sequenza, alle baglie di prelievo. I sei trasolevatori, uno per ogni corsia, si spostano ad una velocità di 3 metri al secondo, per consentire ai pallet madre di raggiungere velocemente le sei baie di prelievo, dove vengono preparati i pallet ordine. E' qui che l'operatore, grazie al monitor presente in ogni postazione, controlla e preleva la quantità richiesta per la composizione dell'ordine. Poi, attraverso la tastiera, conferma il prelievo. Il pallet madre rientra velocemente nella scaffalatura. Il sistema lavora a un ritmo costante. Appena un pallet madre si allontana dalla baia di prelievo, un altro è già pronto per entrarvi e l'operatore procede immediatamente all'evasione di una nuova riga dell'ordine. Quando il pallet ordine è completo, il sistema meccanico lo trasporta alla zona di imballaggio e etichettatura automatica. In pochi istanti, il pallet è pronto per la spedizione. Il controllo è totale. I margini di errore sono realmente ridotti al minimo. Anche l'unico intervento manuale di tutto il processo viene verificato dal sistema automatico. Il prelievo delle scatole dal pallet madre deve corrispondere a una precisa diminuzione di peso del pallet stesso, che viene controllato all'entrata e all'uscita dalle baie. Se i dati non coincidono, il software di controllo segnala l'anomalia. L'operatore può così immediatamente correggere l'ordine. Per ridurre ulteriormente i tempi, il sistema è anche in grado di riposizionare i pallet madre in maniera intelligente e razionale. Elabora i dati statistici di prelievo, verifica i prodotti più richiesti e più movimentati e posiziona automaticamente i pallet più richiesti nelle parti della scaffalatura più vicine alle baie di prelievo. Anche il ripristino delle scorte dei 2.500 articoli della gamma Sant'Agostino è controllato automaticamente. Ad ogni articolo viene assegnato un lotto minimo di scorta. Quando la giacenza raggiunge il quantitativo impostato, il sistema di gestione procede autonomamente alla richiesta di reintegro. Tante funzioni in un solo sistema. Dati e statistiche costantemente aggiornati che costituiscono per l'azienda un patrimonio di informazioni indispensabili ad una perfetta programmazione sia produttiva che commerciale. La tecnologia arriva in ogni settore del magazzino a supporto del personale specializzato che opera con competenza e professionalità. Gli operatori della zona prelievo ricevono e inviano dati e informazioni attraverso i sei computer di baie. I carrellisti, dotati di apparichi palmari collegati al software gestionale con un sistema a radiofrequenza, leggono il codice a barre posto su ogni imballo per visualizzare tutte le informazioni utili al percorso del pallet. Il piazzale di carico, ampio e funzionale, è strategicamente diviso in corsie di transito e aree di parcheggio. Anche qui è il sistema software centrale che organizza spazi e spostamenti per una logistica ottimale. Anche gli uffici che gestiscono le spedizioni dispongono in tempo reale di tutti i dati utili per una perfetta organizzazione dei carichi e dei trasporti in tutti i paesi europei ed extraeuropei. E' questo lo stile che Ceramica Sant'Agostino esporta in tutto il mondo. Uno stile fatto di qualità, di ricerca e di costanti investimenti per un'evoluzione continua e per un successo crescente. Il futuro è già arrivato. Ceramica Sant'Agostino vi entra da protagonista, ancora una volta leader del settore, ancora una volta partner ideale del successo dei nostri clienti. Ceramica Sant'Agostino. Soluzioni per il futuro. Ceramica Sant'Agostino.